Più di un anno fa la chiusura definitiva delle aree di servizio Galdo Est e Ovest di Lauria. Il nuovo tracciato della 2 le aveva praticamente isolate. Il fatturato dei gestori era crollato al punto da costringerli a gettare la spugna. Una ventina i dipendenti lasciati a casa. Ora c'è un nuovo investitore, si tratta dell'azienda Maglione del gruppo Sarni, che come previsto dal contratto con Anas, si è impegnata a farsi carico di quei lavoratori. Per fare il punto della situazione si è tenuta una riunione in prefettura a Potenza. Vi hanno partecipato l'assessore regionale alle attività produttive Franco Cupparo, il sindaco di Lauria Angelo Lamboglia, rappresentanti della provincia, dei varienti coinvolti, oltre che della società subentrante e della organizzazione di categoria aderente alla CISL. Le nuove aree dovrebbero essere pronte nel prossimo mese di maggio, ma manca ancora l'autorizzazione unica ambientale, problema che sarà affrontato in uno specifico incontro tra le parti interessate in programma per lunedì. Ma ciò che preme di più è attivare presto un tavolo tecnico tra aziende e sindacati per definire tempo e modalità delle assunzioni. È stato anche chiesto ad ANAS di prevedere per i vecchi gestori un ulteriore ristoro per i mancati introiti subiti a causa dei lavori di ammodernamento dell'autostrada.